Buonasera amici telespettatori, come di consueto il saluto vi giunge anche dalla redazione Terramana di Rete 8, bentornati alla Gorà Teramo e provincia in questa puntata abbiamo qui con noi come ospite il presidente dell'incompatore Tisid Luca Verdecchio, buonasera presidente. Buonasera, buonasera a voi. Presidente lei ha presentato già un po' di tempo fa un progetto molto interessante che riguarda le start up, le idee, le innovazioni che comunque non riguarda solamente la provincia di Teramo ma è un progetto a livello nazionale che è già tutto pronto, manca solamente la burocrazia italiana che purtroppo come spesso capita fa sempre ritardo, però ci siamo. Ormai sì, parliamo da parecchio tempo, infatti mi dispiace poi non dare una data definitiva dell'apertura, però ormai stiamo già organizzando l'inaugurazione perché vorremmo fare un'inaugurazione importante e comunque di grande risonanza a livello nazionale perché questo comunque sarà il primo incubatore più grande del centro sud Italia. Nel nord ci sono la maggior parte degli incubatori anche certificati, questo il nostro sarà un incubatore anche certificato perché abbiamo fatto tutto il lavoro e la predisposizione appunto per certificarlo. La certificazione poi porterà a partecipare e quindi anche a prendere molti fondi dal governo per aiutare appunto i giovani, ma non solo i giovani a aprire nuove start up e quindi nuove imprese. Come nasce il progetto, come nasce l'idea? Esiste già un'importante realtà a livello nazionale quella di Age Farm, è un pochettino dalla stessa linea d'onda? Allora sì, noi siamo andati anche lì a parlare con i titolari, abbiamo stretto anche una sinergia sì, è come Age Farm, piccolino però, piccolino nemmeno tanto perché sarà una struttura di mille metri quadri in due piani e tre ettari di terreno attorno perché appunto poi posizionato in un posto splendido che ha la collina di Selva Piana che è vicino all'uscita dell'autostrada di Mociano Sant'Angelo quindi è proprio collina dove vedi la montagna e vedi il mare, quindi è una posizione strategica anche per, è vicino le marche e quindi è vicino quindi all'autostrada per andare nel Lazio. Quindi noi abbiamo fatti stretto in questo tempo, ne parliamo da parecchio ma la realtà già esiste ci sono, a livello burocratico dico stiamo aspettando ecco degli ok per poi chiudere alcune parti e poi abbiamo finito, però il seminterrano già è finito, già è pronto. Infatti noi con l'incubatore abbiamo stretto già in questi mesi, in questi mesi abbiamo girato l'Italia abbiamo stretto già delle grandi sinergie importanti, quindi anche con il Sole 24 Ore, con Azimut e quindi anche con Luis e Lab dove praticamente siamo andati a parlare e quindi dove lavoreremo insieme in sinergia per trovare le idee che loro, diciamo tra virgolette non che scarteranno ma che loro, che ne arrivano tante a loro di idee e noi le valuteremo insieme, valuteremo poi di investire o di far nascere poi delle start-up. E con i Cifarm e per i Genni noi stiamo creando una sinergia anche con loro per diventare un punto di riferimento nel mezzogiorno, così tutte le idee che arriveranno dal Sud invece di andare al Nord e possono posizionarsi da noi. Già abbiamo creato già da tempo quindi il Comitato Tecnico Scientifico quindi che valuteranno e valuteranno quindi tutte le idee che arriveranno quindi abbiamo già il sito che è www.t-seed.it e quindi questo ormai diciamo l'operazione marketing è già pronta per quando riguarda le immagini ecco stiamo preparando questa inaugurazione perché vorremmo portare a far venire persone di una certa immagine per far parlare poi dell'Abruzzo in tutta Italia come quando facevamo altri eventi dedicati alle start-up abbiamo dato un grande risalto all'Ateramo e all'Abruzzo per tutta l'Italia. Lei ha parlato di altri eventi, andiamo indietro nel tempo lei è stato presidente dei giovani confindustria Teramo fu il promotore, fu l'ideatore di un progetto che si chiama White Information che ha avuto un importante risultato a livello locale ma anche nazionale parte un po' da lì il suo laboratorio? Beh sì, saluto assolutamente sì insieme ai ragazzi che loro stanno poi comunque portando avanti questo progetto con un grande risultato e quest'anno ne sentirete delle belle perché sarà un grande evento che verrà fatto in Abruzzo e quindi White nacque sì per far conoscere tutto ciò che è il di bello dei giovani non del brutto purtroppo come si parla di tassi di occupazione e disoccupazione quindi tutte le difficoltà che trovano i giovani oggi quindi ecco lì nacque questa idea anche del meeting delle idee e quindi la stessa, diciamo, tra virgolette la stessa formula però adesso la faremo a livello imprenditoriale quindi il meeting delle idee potrebbe diventare l'evento che noi andremo a fare e ne faremo tanti presso dentro alla nostra Antisid dove prende l'idea poi invece di dargli un premio verranno prese incubate, accelerate quindi vengono messe all'interno proprio da incubatore daremo la possibilità di mangiare addirittura anche di dormire chi viene da fuori poi viene portato all'accelerazione quindi significa che l'idea nel momento in cui il comitato tecnico-scientifico dà il via quindi attraverso un business plan e l'idea può essere un'idea vincente noi daremo la possibilità di un valore di 50.000 euro di attività per la start-up 50.000 euro il valore sarebbe di scambio di attività tipo il marketing, quindi i loghi, comunicazione il commercialista, il business plan, il bilancio quindi lo sviluppo, tutto ciò che è la parte dell'avvocato del notaio quindi noi gli apriamo le porte per poi essere pronti nel lancio di questa competitività che c'è in giro che purtroppo, ahimè, oggi è difficile andare a lottare contro i colossi però le start-up innovative soprattutto sono la leva che possono aiutare l'Italia a lanciarsi nel mondo quindi è fondamentale l'incubatore non è rivolto solamente ai giovani a tutte le facili età è importante avere un'idea nuova, diversa che può avere delle gambe giuste per andare avanti assolutamente sì l'idea può essere presentata pure da una persona più anziana assolutamente perché l'idea è se vincente è vincente in tutte le età quindi noi infatti ci sono delle persone che hanno presentato perché noi in realtà noi già abbiamo iniziato a lavorare su delle start-up ne abbiamo già cinque che già stiamo lanciando già stiamo lavorando per farle partire perché adesso che apriremo noi avremo già giustamente delle idee più abbiamo strette delle sinergie con le Camere di Commercio, Università e quant'altro per cercare giustamente anche con l'Aquila, l'Università dell'Aquila quindi per portare più idee quindi più se ne parla ed è per questo motivo che io spesso ne parlo e spesso vado in giro più se ne parla e più abbiamo la possibilità al giovane che chi non sa giustamente che sta nascendo questo incubatore può avere una possibilità un futuro grazie a Tisid Ci sono dei settori secondo voi più importanti in questo momento? L'agroalimentare può rappresentare un volano per questa azienda? Noi punteremo su tutta una serie di attività giustamente inizialmente sui settori merceologici però noi dove crediamo molto sulle start-up innovative e sull'agroalimentare perché noi avendo tre ettari di terreno ci sarà addirittura la possibilità di avere delle campagne dove si coltiveranno proprio i ragazzi Quindi la scelta della location è anche mirata a questo? Anche, anche perché abbiamo questa passione un po' tutti anche della natura del posto che ti rilassa perché comunque è veramente bello ci sono gli ulivi, ci sono dei parchi non senti un rumore e vedi questa collina bellissima Quindi l'agroalimentare può essere un punto di partenza? Assolutamente sì Che comunque parliamo del mezzogiorno quindi ha un importante valore economico L'Abruzzo è famoso per quanto riguarda l'agroalimentare che è uno dei punti di forza addirittura a livello nazionale quindi Expo Milano infatti l'Abruzzo è presente fortemente anche sulla parte agroalimentare e quindi noi puntiamo anche su questo settore che sta crescendo a dismisura e l'altro invece sulle innovazioni perché se oggi e questo lo dico da anni ormai se l'azienda non innova il proprio parco della sua attività il suo prodotto o non porta innovazione presso la propria azienda giustamente purtroppo tende a morire quindi noi aiuteremo anche le imprese faremo anche ricerca per le aziende per rinnovare i propri settori le proprie attività i propri prodotti cerchiamo di fare degli studi e quindi lavoreremo a 360 gradi Lei prima ha parlato di sinergie con l'Università dell'Aguro l'Università di Telamo con la Camera di Commercio quanto sono importanti le sinergie per la riuscita del progetto? È fondamentale perché sono tutte enti soprattutto le università dove girano giovani giovani e quindi di conseguenza sono quelli che poi nel momento in cui dopo la laurea giustamente non sanno cosa fare se chi opta a continuare le attività dei propri genitori ma chi non è fortunato giustamente dovrà trovare o posti di lavoro cosa che scarseggiano oppure inventarsi che perché no delle nuove imprese e quindi noi le università faremo degli incontri con tutte le università insomma c'è un progetto che noi già abbiamo lavorato già abbiamo fatto abbiamo stabilito ed è già pronto l'unica cosa che vogliamo giustamente uscire a testa alta con la struttura finita con una grande inaugurazione che poi tutto il resto è già stato fatto quindi queste sono le attività non so se lo possiamo dire questi cinque progetti che voi già avete fatto partire di prima ma così di che cosa? Eh ci sono uno in particolare ne parlo uno in particolare perché noi stiamo facendo insieme anche a degli amici terramani che già è pronto anche il crowfunding il famoso crowfunding che sarà una delle attività anche parallele di Tseed dove praticamente tutte le idee che noi arrivano o le stesse idee dentro l'incubato o incubate vengono messe in questo sito e quindi tutti hanno la possibilità di essere vendute o addirittura finanziate uno in particolare è praticamente un'idea dove è un ragazzo che è ideato qui dall'America di Abruzzese poi è tornato e quindi anche dalla sede in America dove è un cervello elettronico praticamente come lo chiama lui semantico cioè una voce virtuale dove praticamente i famosi call center tutte queste attività possono essere messe centinaia e centinaia di persone virtuali che parlano rispondono alle domande anche dello stesso interlocutore quindi è un passo in più del call center automatico quello che è quando uno chiama le varie società che c'è una voce virtuale il nostro è più innovativo e quindi riesce a interagire con le domande che la persona gli fa quindi come se fosse una persona virtuale e questo è una start up già esistente già un suo fotturato e noi siamo lì per aiutarlo nello sviluppo a livello nazionale anche perché è internazionale perché questo comunque i famosi call center purtroppo stanno tutti all'estero quindi anche delle grossi società italiane quindi noi punteremo a farla crescere in poco tempo voi a fine di novembre avete organizzato un evento che si chiama start time è un pochettino il lancio del progetto finito che è quello dell'incubatore Tseed allora il start time è stato organizzato da Tseed insieme a The Lab che sono gli amici anche di Teramo per appunto aspetti il titolo era aspettando Tseed siccome ne parliamo già da parecchio tempo abbiamo voluto dimostrare far vedere soprattutto agli operatori del settore che esiste la struttura è pronta quasi finita quindi iniziamo sì un lancio di Tseed che sta per aprire quindi sono venuti dei ragazzi sono stati premiati ci sono state persone anche importanti a livello nazionale che sono venuti lì a spiegare perché è stato un corso poi di formazione di come aprire una start up con tanti giovani quindi abbiamo avuto un grande riscontro quindi sarà una delle tante che faremo all'interno ci sono state delle idee che sono state poi inserite direttamente ah no dentro l'incubatore sì una sola sì una però ce ne sono altre tre che le stiamo trattando facciamo un esempio io sono un ragazzo che ha un'idea la vuole promuovere un'idea valida viene da voi e vi dice ok questo è il mio progetto è possibile sponsorizzarlo e promuoverlo visto che è considerato che non ho disponibilità economica voi di cosa vi occupate esattamente allora noi l'idea viene chi viene da fuori c'è il sito e c'è anche la presentazione online del progetto dove ci sono una serie di domande e di presentare quello che deve presentare per il ragazzo di questa idea chi invece è qui sul territorio possono presentare presso l'ufficio quando adesso sarà aperto presso T-SID un business plan la presentazione dell'idea e soprattutto è fondamentale e uno dice no mi sembra dovrebbe essere il contrario valutare anche la persona che ha l'idea perché non è detto ci sono molte idee vincenti ma la persona che l'ha ideato non è vincente cioè non ha nel sangue l'imprenditorialità e quindi molte volte si tralascia l'idea vincente per colpa del ragazzo o della persona o del futuro imprenditore quindi viene valutato un po' tutto di questa idea si fa una ricerca noi abbiamo questo comitato tecnico scientifico di ogni settore quindi si farà la riunione col comitato tecnico scientifico si farà una valutazione e nel momento in cui questa valutazione risulta tutti positivi praticamente viene incubato qui si fa la proposta diciamo si fa la proposta scritta quindi noi faremo tutti i contratti e quindi naturalmente dovrà lavorare per l'incubatore dovrà seguire i corsi che noi faremo perché all'interno faremo anche formazione naturalmente perché noi dovranno uscire dei giovani imprenditori quindi noi sarà un full immersion impressionante dai 3-4 mesi il ragazzo lavorerà 24 su 24 per poi giustamente uscire perché i primi imprenditori siamo noi naturalmente noi nell'idea se ci crediamo ci investiamo e quindi di conseguenza che totalmente a costo zero per sì sì a costo zero perché noi ci mettiamo tutto noi da tutta la disponibilità faremo il sito noce diamo tutto come se uno dovesse aprire un'azienda dovesse aprire e noi gli apriamo l'azienda l'attività per una start-up quindi l'impresa a costo zero naturalmente poi quando troveremo dei fondi finanziamenti poi questi finanziamenti devono essere alcuni restituiti altri dovranno pagare gli affitti perché in cui la start-up nasce poi nasceranno anche lateralmente in questo terreno ci saranno tutta una serie di bungalow tra virgolette che staranno lì ospitati prima di poi si trasformerà come un villaggio villaggio dell'idea e ogni bungalow ci sarà una start-up avviata quindi dall'accelerazione nel momento in cui nasce questa impresa inizia a fatturare questa start-up viene presa dalla scrivania diciamo per semplificare un po' i termini dentro di co-working viene spostata presso questo bungalow che è una mini azienda insomma e da lì poi si lancerà sul mercato lei ha parlato prima di fondi la comunità europea quanto è importante per la riuscita del progetto fondamentale perché se no arrivano fondi in Italia dalla comunità europea naturalmente l'Italia a scalare su tutto il territorio nazionale non possono aiutarci quindi il comunità europea crede molto nelle start-up il governo nazionale crede molto nelle start-up è la lingua più usata ormai il termine più usato in Italia e quindi naturalmente c'è una pulizia perché la famosa certificazione è stata fatta appunto perché l'incubatore oggi si chiama pure chi è un cioè una persona tipo un dottore commercialista si unisce con un avvocato e lì in un ufficio lo chiamano incubatore ma in realtà incubatore sono tutt'altra cosa insomma lei parlava ovviamente di livello nazionale ma può essere un importante volano per rilanciare l'economia provinciale perché ovviamente si trova a Teramo e si spera anche che possa diventare un volano assolutamente la struttura che poi ci tengo particolarmente perché ci sono anche altri incubatori che sono finanziati totalmente addirittura dalla politica quindi dagli enti pubblici il nostro invece è totalmente privato siamo 5 imprenditori che hanno deciso di metterci nel suo il rischio credono in questo progetto credono in questa idea credono nel futuro e quindi hanno voluto investire in questo territorio noi siamo Teramani naturalmente può essere sicuramente di aiuto perché tutte le start-up che nasceranno le faremo nascere qui a Teramo e naturalmente molti sicuramente rimarranno qui ma poi però ecco ripeto noi facendo gli imprenditori verranno sicuramente molti dal Lazio dalle Marche dalla Puglia quindi torneranno nella propria casa quindi naturalmente li perderemo però saremo lì soddisfatti nel dire ok abbiamo aiutato dei giovani a realizzare un sogno almeno almeno quello perché comunque è la possibilità visto quello che si sente nelle televisioni ci sono molti ragazzi disperati e quindi chi ha una vera idea bisogna almeno ascoltarli io concentrei anche sul fatto dell'università dell'importanza delle università potreste anche rappresentare per l'università stessa un valore in più per i futuri iscritti che la facoltà riceverà nei prossimi anni perché ovviamente avere una sinergia diretta con una struttura del genere che vi mette a disposizione tutto quello che serve per promuovere le proprie idee può rappresentare un valore aggiunto per la stessa università assolutamente ma addirittura al contrario anche noi potremmo creare infatti stavamo parlando della sinergia con l'università e appunto utilizzare i ragazzi che si stanno per lavorare per poi farli venire dentro l'incubatore dove noi siccome faremo anche formazione di conseguenza li possono fare anche la pratica perché naturalmente tutti i business plan che verranno che arriveranno ne arriveranno tanti possono essere valutati dai stessi ragazzi dell'università insieme al comitato tecnico scientifico quindi gli esperti oppure il marketing e la comunicazione che andremo a fare nella start up può nascere attraverso i ragazzi che si stanno per lavorare sull'università di Tenamo quando riguarda la comunicazione le sinergie sono tanti perché questo comunque l'incubatore è soprattutto per aiutare soprattutto i giovani quindi le università è fondamentale che ci sia come partner per T-SID le idee culturali faranno parte del vostro progetto se consideri viviamo in uno dei paesi più belli al mondo dove la cultura dovrebbe farla da padrone quando io parlo infatti di start up quindi innovative intendiamo soprattutto quello in particolare ci credo molto io è sulle applicazioni quindi le applicazioni sono quelle famose applicazioni che si acquistano per i telefonini tablet e quindi queste applicazioni sicuramente spazieranno un po' su tutti i fronti delle attività e quindi anche soprattutto culturali come se adesso oggi ci sono delle applicazioni che fai la foto è un monumento che già ti scrive la storia attraverso il riconoscimento del tablet della fotografia e ci sono migliaia di idee che ci sono sulla cultura e quindi noi valuteremo anche quelle quindi ci possono essere anche delle applicazioni che possono interessare direttamente gli enti pubblici come la regione come la provincia per promuovere questa tipologia di successo imprenditoriale assolutamente se la politica giustamente sarà lungimirante naturalmente potremmo essere tra i primi perché in cui arriva l'idea e l'idea diventa attività è la prima che viene fatta tra le prime in Italia quindi visto che sta in Abruzzo ben venga che l'Abruzzo o la politica sia lungimirante nel prenderlo e dire ok è nostra è abruzzese lanciamola lavoriamoci insieme quindi questo è anche la nostra speranza insomma visto che comunque oggi fare rete è importantissimo l'unione fa la forza e quindi è fondamentale che siamo tutti uniti che messaggio vuole dare chi la sta seguendo da casa ed è interessato a questo tipo di iniziativa che ha un'idea anche qualunque essa sia per aiutarlo a dirigersi nella strada giusta se crede la persona che sta ascoltando crede nel proprio idea e nel proprio progetto deve perseverare fino a quando non riuscirà ad aprirla perché tutti gli imprenditori di grande successo famosi intendo anche tipo Bill Gates o stesso Walt Disney che sono una serie di storie che anche ho letto bellissime gli hanno creduto hanno perseverato e ce l'hanno fatta quindi non è detto che nessuno tutti possiamo farcelo che momento stiamo vivendo adesso il 2015 sarà l'anno della ripartenza economica oppure secondo lei che vi si considera che è ancora un imprenditore bisognerà ancora aspettare il discorso della risalita ne ho sempre detto che ne sento parlare da quando dopo da 2011 nel 2001 quando ci fu il famoso Torri Gemelle ad oggi il 2015 ogni anno ho visto sempre sempre peggio non ho visto mai dei miglioramenti anche se molte volte dicono si vede uno spiraglio di miglioramento nel 2015 speriamo di vedere un messaggio molto importante è stato fatto dalla Banca Centrale Europea questo messaggio questo di dare molti fondi alle banche però di conseguenza le banche dovranno dovranno riversare sul territorio se si ritengono per sé non aiuteranno nel territorio nazionale quindi di conseguenza gli imprenditori quindi io spero con questa operazione che è stata fatta di rivedere persone più tranquille dove dormono più tranquillamente per vedere le imprese perché noi siamo comunque i numeri uno nel Made in Italy il famoso Made in Italy sull'abbigliamento sulla creatività su tutto ciò che è anche la parte agroalimentare quindi ci servono giustamente dobbiamo vedere un po' più in là quindi dobbiamo uscire un po' più all'in là dell'Italia e naturalmente aiutati supportati dalle banche quindi da chi realmente ci può dare la possibilità e la speranza insomma di crescere le nostre proprie imprese Presidente siamo quasi arrivati alla fine per l'estate vedremo l'apertura di questa struttura ma io sono parecchie volte che lo dico ovviamente è difficile parlare di questa cosa perché comunque non dipende da voi spieghiamo questo comunque dipende anche dalla burocrazia che spesso va rilento però comunque stiamo decidendo anche di come trasformare una parte dell'incubatore anche per quanto riguarda l'agroalimentare quindi giustamente saranno un po' la burocrazia un po' di strategie quindi si sta facendo rallentare ma penso a breve insomma la struttura c'è si vedranno nelle foto quindi insomma chi vedrà le foto capirà che manca poco ovviamente si può regare direttamente sul sito oppure sul sito www.t-seed.it Presidente io la ringrazio per questa interessante chiacchierata speriamo che le idee per chi l'ha ascoltata verranno in mente e ovviamente si regerà da voi per vedere insieme quello che si può fare della propria idea possa essere ci auguriamo possa essere un'idea vincente quindi io la ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni e sicuramente ci rivedremo per promuovere un progetto così importante e così interessante per la provincia di Teramo a livello nazionale assolutamente io vi ringrazio e spero quando apriremo di vedere tante idee che arrivano e aiutare questi giovani ad avere un futuro migliore grazie mille al presidente dell'incubatore TC Luca Verdecchia ma grazie mille soprattutto a voi amici telespettatori e non resta che ringraziarvi e dandovi appuntamento alle prossime puntate dell'Agorab Teramo e Provincio grazie e buona serata grazie a tutti